Balanga di assoluzioni nell'ambito del processo scaturito dall'operazione Vane Scienze che, portata a termine del 2016 della Guardia di Finanza, ipotizzava episodi di assenteismo e abbandono del posto di lavoro presso la sede ASP dell'area urbana di Rossano. Ieri, a sei anni esatti dal Blitz che portò alla notifica di 12 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti dipendenti dell'azienda sanitaria, il Tribunale di Castrovilleri ha disposto per tutti e venti gli imputati l'assoluzione per la maggior parte dei capi di imputazione con la formula perché il fatto non sostiste, accogliendo in tal senso le tesi del Collegio Difensivo. Per due imputati è stata disposta l'assoluzione per due capi di imputazione, ritenendo il reato non punibile in considerazione della particolare tenuità dell'offesa. Il Tribunale ha infine inferto quattro condanne limitatamente ad alcuni contestati episodi di allontanamento arbitrario dal luogo di lavoro per esigenze non connesse alla prestazione lavorativa mediante la falsa rappresentazione della presenza in servizio, appena che vanno dai cinque mesi ai sette mesi di reclusione. Per i quattro imputati è stata disposta la sospensione condizionale della pena. L'inchiesta, denominata evanescenza sfociata nel blitz conclusivo del 2016, dopo sei mesi di indagini condotte anche mediante pedinamenti e videoregistrazioni, ipotizzava una serie di condotte illecite da parte di alcuni dipendenti pubblici della sede ASP di Rossano, accusati di abbandonare il luogo di lavoro dopo aver registrato la propria presenza in servizio per svolgere attività private. Tra le contestazioni anche lo scambio reciproco di favori tra colleghi relativamente alla timbratura del cartellino.